Ora l'inchiesta giudiziaria sulla vicenda Rubi emergono nuovi particolari dalle carte dei PM. La ragazza marocchina avrebbe chiesto e ottenuto sostegno economico da Giuseppe Spinelli, l'amministratore delle società del Premier, e questo anche dopo che il caso era finito sui giornali. E un'amica di Rubi conferma intanto ha fatto sesso con il Cavaliere. Pino fino a chiaro. Dolce Drago è il nome di una delle società amministrate da Giuseppe Spinelli, in nome e per conto di Silvio Berlusconi. Rubi chiede soldi all'ufficiale pagatore di Berlusconi anche dopo che la vicenda è finita su tutti i giornali. Berlusconi è introvabile. I centralini di Palazzo Grazioli e Villa San Martino non la lasciano parlare col Premier. A quel punto Karima Elmarug, in arte Rubi, telefona a colpo sicuro al tesoriere di casa Berlusconi, Giuseppe Spinelli. Secondo gli inquirenti, Rubi almeno una volta ha incontrato Spinelli e Rubi aveva rapporti sessuali col Premier. Lo dice durante un interrogatorio l'ex coinquilina Caterina Pasquino. Rubi diceva di essere molto amica del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con il quale, a suo dire, è stata spesso a casa del Premier dove ha cenato, ballato e fatto sesso con lui, il quale le dava molto denaro. È l'elemento chiave. Ecco perché gli investigatori vogliono perquisire gli uffici di Spinelli. In una telefonata Rubi spiega di accontentarsi di 5.000 euro. Spinelli ascolta. Poi risponde che ne avrebbe parlato con il Cavaliere. Alla fine, secondo gli atti dell'accusa, Spinelli si incontra con Rubi a Milano 2, presumibilmente, secondo i PM, per consegnarle dei soldi. Spinelli, insomma, è l'ufficiale pagatore dei vizi del presidente. Invia due bonifici alla subretta Alessandra Sorcillo, a nome di Silvio Berlusconi. Per farlo, dicono alle carte, usa due sportelli bancari disegrate, una delle quali si trova nell'immediata vicinanza degli uffici della SPA Dolce Drago, dove risulta operare Spinelli Giuseppe. Affinché il drago si mantenesse docile, l'imperativo era trovare sempre nuove ragazze. Lo conferma al telefono Roberta Bonasia, finalista a Miss Italia, una delle presunte fidanzate del Cavaliere. Roberta spiega al fratello che Berlusconi le chiede i numeri di telefono di altre concorrenti e di aver risposto. Ne ho presi un paio, ma non c'era un granché. Poi supplica il fratello. Mi devi aiutare, adesso va a Roma. Sabato e domenica torna e mi ha detto sabato portamele. Paghi tu il viaggio fin qua e poi ci penso io.